My Home, My Destiny, anticipazioni di sabato 3 settembre, l'ultima puntata della prima stagione. Dopo aver visto Emine e Farouk insieme, Zeynep rimane sconvolta e senza parole. Kibrit, arrabbiatissima, la incita a reagire, ma per lei è più importante che Meti non venga a sapere nulla, per evitare che le cose si aggravino e ancora non sa nemmeno se Sultan ne sia a conoscenza. L'unica cosa che Zeynep riesce a realizzare è che anche Emine, la sua unica amica, quasi una sorella, le ha mentito e l'ha ingannata. Benal è sempre più preoccupata che l'ex marito Serat possa trovarla, infatti dopo averlo visto sotto la sua finestra, anche camminando per strada cerca di non farsi notare. I suoi timori però sono fondati, mentre cammina infatti viene aggredita proprio da Serat, che la prende con la forza e la costringe a seguirlo. Serat tiene ben stretta Benal e minacciandola la trascina per strada senza che nessuno provi a fermarlo. D'un tratto però Serat viene colpito alla testa. È Mushgan che preoccupata per Benal si trovava in zona e vista la situazione ha deciso di difendere l'amica colpendo in testa il suo ex marito con una pietra. Sconvolta per ciò che ha fatto Mushgan afferra Benal ed insieme scappano dal luogo dell'aggressione. La sera Meti è con tutta la sua famiglia e arrivano finalmente a casa. Sultan, mentre ringrazia Zeynep non riuscendo più a nascondere il vero perché dell'assenza di Emine, si tradisce. Zeynep le dice che si augura di poter vedere presto Emine e Sultan non riesce più a mentire e capisce che anche Zeynep ormai sa del segreto della figlia. Le due così non fingono più l'una con l'altra e neanche Nu ha più bisogno di mentire e si rammarica che alla fine Emine sia fuggita proprio con Faruk, uomo da cui lui l'aveva messa in guardia. A tutto ciò assiste anche Meti che finalmente scopre questo ulteriore segreto e vuole subito andare a casa di Faruk per riportare Emine a casa. Zeynep però lo ferma. È stata una scelta di Emine quella di fuggire con Faruk e di conseguenza non accetterà la loro opinione o il loro aiuto. Nel frattempo Faruk torna a casa con una Emine ancora sconvolta per essere stata scoperta da Zeynep. Faruk cerca di tranquillizzarla. Lui la ama e affronteranno tutto questo insieme. Mentre i due si abbracciano Faruk si accorge che all'interno di casa sua c'è suo padre che sta guardando la scena con uno sguardo torvo. Anche Zeynep e Meti rientrano in casa e trovano qualcuno di inaspettato. Sul letto della loro camera infatti c'è Benal che dorme e i due rimangono esterefatti e senza parole. Sultan viene invece scortata da Nu a casa e i due parlano di Emine. A Sultan avrebbe fatto piacere vedere i due ragazzi insieme come una coppia perché sa che con lui la figlia sarebbe stata felice mentre è certa che con Faruk non troverà la felicità. Nu si fa prendere dallo sconforto. Lui ci sarà sempre per Sultan e per lui è come se fossero sempre stati una grande famiglia. Ma sì, anche lui è molto triste e sempre stato innamorato di Emine ma lei non lo ha ricambiato e ha sempre sognato di andare via da quel quartiere. Sultan non deve vergognarsi per le scelte della figlia. Magari Emine sarà felice con Faruk e questa deve essere la cosa più importante. Ancora a casa di Faruk il ragazzo parla in maniera concitata con il padre che lo incita a prendersi le proprie responsabilità e a renderlo orgoglioso per una volta. Emine non sa di cosa stiano parlando. Probabilmente si tratta del matrimonio organizzato per Faruk di cui ancora lei non sa nulla. Una volta andato via il padre Faruk fa finta di niente e cerca di andare avanti con la serata come se nulla fosse. Ma Emine percepisce che qualcosa non va. Quindi gli chiede perché suo padre non l'abbia neanche considerata. È evidente per lei che nessuno crede nella loro relazione. Per Faruk questo non significa nulla. Non devono rendere conto agli altri. Lui la ama e starà con lei. Nient'altro ha importanza. A casa Caraca Musgan spiega a Meti, Zeynep e Sakine il perché abbia portato a casa Benal. Racconta di come Serat sia ancora un problema e del fatto che se l'uomo è un pericolo per Benal è anche un pericolo per il figlio di Meti e lei non può permettere che capiti qualcosa ad entrambi. Per Musgan le cose sono semplici. Il figlio di Benal è sangue del loro sangue e se per proteggerlo Benal deve rimanere in casa loro, allora rimarrà. Zeynep non riesce più a tollerare la situazione ma, sempre con apparente calma, dice che si preparerà per la notte. Sakine, capendo il disagio della figlia, porta via Musgan così da lasciare Zeynep e Meti da soli. I due si confrontano. Zeynep ha una dignità e un orgoglio da difendere e non dormirà dove ha dormito Benal. Lei starà al fianco di Meti, sta già sopportando questa situazione ma non si farà mettere i piedi in testa così facilmente. Meti la comprende e si dispiace per quello che sta accadendo. Zeynep non gli dà, infatti, la colpa della situazione attuale e anzi ribadisce il fatto che solo insieme possono affrontare tutto. Il giorno dopo Zeynep è alle prese con la preparazione del discorso di laurea, che dovrà fare da lì a breve. Al telefono con Nermin scopre che il padre Ekrem non sarà alla sua laurea per motivi di lavoro. Terminata la telefonata si scopre però che in realtà Nermin non riesce a rintracciare Ekrem da alcuni giorni. Prova quindi a chiamarlo al telefono per l'ennesima volta, riuscendo solo a lasciare dei messaggi in segreteria. Nel frattempo vediamo Ekrem che sta preparando la macchina per un lungo viaggio. Lui e la sua amante e sua figlia infatti stanno per partire. Ekrem lascia però un messaggio in segreteria a Nermin che la donna ascolta subito. Lui le dice che probabilmente verrà a sapere delle cose a cui non potrà credere, ma che lui l'ha amata veramente e tutto quello che ha fatto lo ha fatto solo per sua figlia, come lei lo fa per Zeynep. Infine si scusa e il messaggio termina, lasciando Nermin incredula e confusa. Nermin viene raggiunta dal signor Ishan che ha delle importanti informazioni riguardanti il marito Ekrem e la loro azienda. L'uomo, accompagnato da diverse persone, spiega a Nermin che Ekrem, con la complicità dell'avvocato Meltem, ha contratto diversi debiti aziendali, attuando di fatto una frode che li ha portati alla bancarotta. Ishan confessa a Nermin il fatto che Ekrem e Meltem abbiano una figlia e le spiega anche che è importante spurgere subito una denuncia nei confronti del marito che potrebbe abbandonare il paese e che nei giorni successivi le loro proprietà verranno valutate per essere confiscate. Nermin, incredula e sconvolta, si lascia andare allo sconforto più totale non riuscendo più ad ascoltare le terribili notizie che sta ricevendo. Nel frattempo Farouk, in casa, riceve la visita del suo amico Tolga, che lo informa del fatto che la sua fidanzata Selin lo stia cercando e che lo abbia addirittura chiamato per degli quanto le piaccia Farouk. Ma Farouk è totalmente indifferente a questa ragazza, non vuole sposarla ed è seriamente innamorato di Emine. Dopo pochissimo arriva anche Emine, a cui ovviamente viene celato il vero argomento della discussione, così Tolga trova come scusa per la sua visita l'invito alla laurea di un amico comune, che Emine riconosce essere un collega universitario di Zeynep. Così Emine viene anche a sapere che la laurea di Zeynep si terrà quello stesso giorno e diventa nostalgica perché con l'amica sognavano quel giorno da tanto tempo. Arriva finalmente il momento della laurea di Zeynep e si ritrovano tutti in facoltà alla cerimonia. Zeynep dovrà tenere il discorso iniziale perché è stata nominata la studentessa più brava del corso di laurea. Alla cerimonia ci sono tutti, tranne Nermin, che ancora non è arrivata, e ci sono anche Emine e Farouk che però decidono di posizionarsi in una zona defilata per ammirare da lontano Zeynep senza farsi vedere, così da non turbarla. Il discorso di apertura comincia. Zeynep inizia ringraziando i suoi professori universitari e dicendo anche che aveva preparato un discorso per l'occasione ma è talmente emozionata che non riesce sicuramente a dirlo. Nel contempo arriva Nermin e subito Zeynep si rilassa e racconta la storia che l'ha portata fino alla laurea. Non è cresciuta in modo facile, ha avuto due madri e due padri. Le sue madri sono sempre state molto diverse tra loro e lei è sempre stata combattuta su quale delle due fosse l'esempio migliore da seguire. Adesso però capisce che se ha una professione e se ha quel carattere determinato è grazie al contributo e ai sacrifici di entrambe le sue madri ed è felice ed orgogliosa di essere la loro figlia. È in questo momento che Nermin e Sakine si prendono per mano e si scambiano uno sguardo reciproco di gratitudine, entrambe troppo felici per come sia cresciuta Zeynep. Zeynep continua dicendo che solo da poco ha scoperto il vero amore e che ha capito che la vera casa risiede nel cuore dell'uomo che ama. Grazie a Meti lei ha finalmente capito che l'amore ha diverse sfaccettature, diversi modi di esprimersi e proprio grazie a lui lei è riuscita ad ascoltare e a capire il suo cuore. Il discorso è già riuscito a commuovere gran parte della sua famiglia quando ad un tratto la stessa Zeynep vede una figura avvicinarsi e in lei spunta un sorriso. Si vede infatti il defunto fratello Ramsey che la guarda in modo fiero. Zeynep infatti per concludere il suo discorso dice che se c'è qualcuno a cui vorrebbe dedicare la sua laurea è proprio il fratello Ramsey morto quando era piccola per non aver ricevuto le cure adeguate. È grazie a suo fratello se lei ha deciso di diventare avvocato i due infatti si erano fatti una promessa da piccoli uno dei due sarebbe diventato avvocato per poi poter giudicare il loro padre che da piccoli ha proibito a lei di studiare e a lui ha negato le cure adeguate. Fatta la sua dedica e detta tutta la sua verità Zeynep guarda commossa il fratello Ramsey allontanarsi. I presenti alla cerimonia sono tutti commossi per il toccante discorso di Zeynep e mentre lei va da Meti per abbracciarlo e festeggiare vediamo i volti delle madri, delle sorelle e delle nipoti tutti emozionati per il traguardo raggiunto da Zeynep e in lontananza vediamo anche Emine rimasta in disparte esclusa dall'allegria generale ma fiera della sua migliore amica. Così termina la prima stagione di My Home My Destiny per chi non lo sapesse vi ricordo che da lunedì 4 settembre la serie continua ma solo sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Noi continueremo a parlare di questa serie quindi iscrivetevi al canale e mi raccomando seguitemi io sono Stefania vi mando un abbraccio e come sempre vi aspetto nei commenti per parlare della puntata e del futuro.